ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale mariodedo oggi andremo a vedere un sito archeologico su minecraft ho trovato nell'esplorazione questi blocchi che dimostrano che qui sotto troveremo un vero e proprio sito archeologico naturalmente ci sarà molto ma molto da scavare iniziamo a farlo e vedremo cosa riusciremo a trovare sotto questo sito archeologico sicuramente ci saranno dei tesori nascosti io inizio a scavare e ci vediamo dopo eccoci qui ragazzi per voi sono passati pochi secondi invece per me 3-4 giorni di duro lavoro a scavare adesso andiamo a vedere cosa c'era sotto qui cinque sei blocchi che abbiamo trovato in superficie eccoci qui ragazzi incredibile questo è il sito archeologico che si nascondeva sotto qui pochissimi blocchi questi erano i blocchi che avevamo trovato in superficie tutto questo c'era sotto ok adesso scendiamo andiamo a vedere adesso i tesori che ci sono in queste piccole casette sembrano guardate allora come vedete ci sono tantissimi blocchi di ghiaia sospetta che adesso proveremo a scavare insieme e vedremo cosa nascondono allora andiamo anche come fatta questa questa architettura sembrano delle casette qui davanti e poi c'è questa casa un po più grande con diverse stanze vedete questi blocchi particolarissimi ok vedete vedete veramente sfizioso questo sito archeologico allora andiamo a vedere adesso c'era un blocco sospetto qui di ghiaia allora si stavo qui sopra infatti andiamo a spazzolarlo e si ragazzi abbiamo trovato uno schema di foggiatura un nuovo template si applica su armatura ok adesso andiamo a vedere gli altri blocchi trovati allora iniziamo a spazzolare i primi blocchi io ho messo una torcia per ricordarmi e evitare di romperli durante l'esplorazione ok coccio con ululato adesso il blocco lo possiamo anche togliere allora qui c'erano altri blocchi di di ghiaia sospetta ma li scaviamo tutti e man mano vedremo il risultato questa cosa era una zappa in legno prima abbiamo trovato un altro coccio coccio con cure ok una volta spazzolati possiamo anche toglierli qui ce n'era un altro un altro coccio ok qui 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 non si vede ma forse un'altra qualcosa in legno no si insegna diabete no ragazzi ho sbagliato e naturalmente abbiamo verso un blocco vediamo qui oro oro in quest'altro blocco andiamo a fianco ok sopra il sospetto un altro template eccolo mettiamoli qua ok adesso possiamo anche togliere il blocco allora c'era un altro sospetto allora c'era un altro sospetto sopra un altro template no incredibile un disco musicale questo è rarissimo disco musicale da trovare nella ghiaia sospetta adesso possiamo toglierli ci sono altri blocchi un altro template ottimo non male il risultato da questo sito archeologico continuiamo ancora con i blocchi oro probabilmente oro un altro sospetto ancora qualcosa di blu ah semplicemente del colorante blu questo è normale questo blocco ok abbiamo quest'altro sospetto che ci ha dato del colorante bianco un pannello di vetro probabilmente sì facciamo l'ultimo per questa casetta e poi andiamo a fianco questa volta colorante azzurro li spostiamo sopra adesso ok 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 passiamo alla casetta a fianco anche qui piena di blocchi sospetti una candela rossa qualcosa di blu sembrerebbe del colorante sì allora un guinzaglio abbiamo quasi venito anche i blocchi addirittura sotto è normale lo possiamo togliere qui abbiamo un altro sospetto un altro coccio continuiamo a scavare un altro template stile allevatura questo qua ok adesso possiamo toglierle questi qua ok qua abbiamo finito dobbiamo andare queste altre due casette a fianco prima facciamo questo blocco qua così lo togliamo anche qua sembrerebbe colorante ok qui è quasi tutto di ghiaia sospetta anche qui colorante non so che fare con tutto questo colorante però continuiamo qualcosa in legno probabilmente sì mi sa che abbiamo anche l'inventario pieno piazziamo un baule e mettiamo tutto dentro uno smeraldo allora troviamo con questi altri blocchi di ghiaia sospetto questo no per quanto motivo ho messo le torce blu andiamo a togliere un altro template sotto ancora colorante è sbaglio ho rotto un altro blocco mannaggia queste pale fortissime un altro colorante forse sotto invece no non è niente era solo un blocco di appoggio questi altri due si sono anche sospetti ok un altro smeraldo ok in questa casa ne mancano solo due poi abbiamo l'ultima casa da esplorare un altro coccio pure qui ok è rimasto ben poco di questa casa andiamo all'ultima gli ultimi blocchi di ghiaia sospetta colorante questa volta giallo prima abbiamo avuto un altro template ornamento stile ospite un altro coccio anche qui questo era solo un blocco di appoggio lo possiamo anche togliere qui ancora sospetto sembrerebbe colorante verde no una candela verde dopo la candela rossa abbiamo visto anche la candela verde continuiamo addirittura semi di barba e pietola questo era sempre forse di appoggio questo è sospettissimo cosa di nero carbone semplicemente carbone andiamo a fare gli ultimi non ho visto non ho visto non ho visto cos'era questo blocco vediamo l'ultimo pannello di vetro e probabilmente con i blocchi di ghiaia sospetta abbiamo finito la nostra esplorazione ragazzi un bel bottino alcune cose inutili ma alcune veramente simpatiche ok ragazzi io ah no c'è l'ultimo blocco attenzione l'ultimo blocco ci stavamo dimenticando andiamo a spazzolarlo ovviamente è un altro coccio probabilmente ok ragazzi adesso vi saluto per un altro blocco ancora incredibile ragazzi questo però sembra veramente l'ultimo sembra del colorante anche qui e adesso mi sa che non ne vedo più di blocchi si ok ragazzi io vi saluto per questo episodio e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao 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 ciao